Il puerto 34, ok? Dai Claudio, l'ho fatto mille volte con papà, te lo giuro, ti sto appiccicata. Cos'è che hai premesso tuo padre? Dove c'è fuoco? Vera? 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 Alò? Y el pidió que me llamanan a mi? I... Fuego. De que chucha estás hablando, huevon? Tengo que ir. A donde? No sé. Muy bien todavía. Tengo que viajar un poco. Los que se buscan se encuentran. Quien es Vera? Una niña. Muy especial. Mi emoción es igual al miedo. Ah... Ma chi è? Non lo so, non lo so neanche la polizia. Senza documenti. Va... Quella non può essere nostra figlia, lo sei anche tu. So anche lei. Lo so. No! 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 Grazie a tutti.